Musica Frutticoltori della provincia di Verona, ben ritrovati a questo sesto appuntamento del bollettino Cimece Asiatica. Un saluto dalla Coldiretti di Verona, dal Banco Popolare, da Cattolica Assicurazioni, dall'Aipo OP, dal Consorzio Agrario Lombardo Veneto, da Agrea e Codive. Si mantiene stabile il livello di popolazione di adulti nei peschetti e nelle actinidie, con medie che nelle tre settimane sono intorno a 3,7 insetti per trappola, mentre la percentuale di trappole positive scende al di sotto del 76%. Nell'area sud melopelo abbiamo una diminuzione sensibile della popolazione, con 7,5 adulti per trappola. Le trappole singolarmente mostrano dei picchi differenziati, risultato dai diversi epoche di trattamenti e dagli spostamenti frequenti degli adulti. In questa settimana si vedono in campo le prime ovature e anche le prime schiuse, sia di Cimece Asiatica sia di Cimece Verde, che richiediamo anch'essa partecipa poi al danno finale sui nostri frutti. Ci prepariamo quindi ad affrontare la nascita proprio della prima generazione, che sarà importante tenere monitorata proprio nei fruttetti per valutare la necessità di intervenire. Questa generazione troverà a disposizione anche i quiwi, pertanto sarà necessaria una massima attenzione dalla legagione in poi. Diverse trappole disposte in aziende con reti hanno fatto constatare la capacità di quest'ultime di trattenere le cimici verso l'esterno e in alcuni casi sono stati fatti degli interventi, dei trattamenti proprio in seguito alla comparsa di cimice sulle reti stesse. Una rivederci al prossimo bollettino fitosanitario.